Nel biennio 2021-2022 il 39,5% degli ultra 65 anni molisani ha dichiarato di avere avuto difficoltà nell'accesso ai servizi sociosanitari o ai negozi di genere alimentari o di prima necessità. Il 28,8% ha rinunciato a visite mediche ed esami diagnostici. Sono alcuni i risultati della sorveglianza Passi d'Argento dell'Istituto Superiore di Sanità che indaga molti aspetti legati alla tutela e alle sicurezza delle persone anziane. Nella graduatoria nazionale riferita le difficoltà nell'accesso ai servizi sociosanitari il Molise non brilla collocandosi al secondo posto dopo la Campania. Numeri meno allarmanti per quanto riguarda la rinuncia a visite mediche o esami diagnostici. Sesto posto dopo la Sardegna. La rinuncia alle cure si aggrava nelle fasce sociali più svantaggiate che riferiscono di avere molte difficoltà ad arrivare alla fine del mese con le risorse di cui dispongono.